La Lega Nord festeggia la conquista della Lombardia, una vittoria di Roberto Maroni alle regionali che maschera il pessimo risultato alle legislative e la netta sconfitta a Milano dove ha prevalsi il candidato del centro-sinistra, Umberto Ambrosoli. Incurante del calo di consensi, il carroccio, che a ottobre aveva sfiduciato il governatore uscente Formigoni per poi tornare ad allearsi con il PDL, ribadisce i temi di sempre. Il nostro progetto è di creare una macro-regione del nord che sia in grado di avere con Roma un rapporto tale da ottenere tutto quello che noi chiediamo. Da sempre contrario all'ingerenza di Bruxelles, ora i leghisti si aggrappano a una risoluzione del Parlamento europeo che mira a istituire una macro-regione che include il nord Italia, così Roberto Maroni, ai nostri microfoni. C'è un progetto europeo di costituzione di una euro-regione padano-alpina che prevede già le quattro regioni italiane più regioni di altri stati. C'è la Slovenia, c'è la Carinzia, c'è la Svizzera e una regione francese. Questo è il modello di euro-regione che io voglio realizzare partendo però dalle regioni italiane. Lombardia, Piemonte e Veneto producono quasi il 60% del prodotto interno lordo italiano. Un immenso potere economico che la Lega Nord non tarderà a far pesare a Roma.